Google rende disponibile in maniera gratuita un potentissimo insieme di applicazioni web dedicata alla comunicazione e alla collaborazione online attraverso qualsiasi browser internet su qualsiasi sistema operativo. Tra le applicazioni più note Gmail, Drive e Calendar, oltre a queste ne esistono molte altre che possono essere utilizzate per sviluppare contenuti didattici o gestire le attività di classe, dalla produzione di siti e blog, alla realizzazione di questionari o alla produzione di presentazioni e molto altro. Tutte le informazioni che produciamo e condividiamo vengono salvate automaticamente nel cloud in maniera sicura e protetta permettendo di consultarle e modificarle in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, con qualsiasi dispositivo. Supponete di dover produrre un manuale didattico insieme ad altri colleghi. La possibilità di condividere l'editing istantaneamente, mediante i chat, di squisire sulle parti del testo può essere un'attività molto interessante. O ancora alla produzione online di un PDP. pensate per esempio all'organizzazione dell'attività di recupero che fate con i vostri allievi. Con Google Calendar potrete invitare gli allievi a partecipare, ricevendo mail di invito, all'attività di recupero. In questo modo gli allievi potranno sincronizzare il loro Google Calendar con il loro smartphone e vedranno gli eventi nel loro cellulare. L'obiettivo quindi del corso è quello di presentare ed usare efficacemente la piattaforma Google App in ambiente scolastico. Il corso avrà una declinazione prettamente pratica e il docente imparerà a strutturare attività didattiche online che sfruttano la collaborazione tra docente e docente e tra docente e allievi. Vi aspetto quindi al mio corso.